Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi dobbiamo massacrare una squadra avversaria Sono con parecchi della mia crew Anche se come vedete non riusciamo a prendere tutti gli aerei Perché è un casino Non so, oggi ragazzi con le sessioni, con le lobby Non entra molta gente E quindi noi adesso dobbiamo buttarci giù così Tirare sui carrelli Andare dove c'è la Mates Bank Ah, hanno preso anche loro gli aerei? Ah, eccoci qua Noi dobbiamo fare così, raga Volare Tutti hanno preso gli aerei Cioè, è una figata micidiale E dobbiamo aprire il paracadute Ok E se qualcuno sbaglia ad atterrare è completamente fregato Allora, qua vedo Perché la mia squadra deve già tutta quanta morire? Ok E un paracadute l'abbiamo preso Uh, l'RPG, l'RPG Tutto pieno di RPG Tutti miei l'RPG Ehi, bastardo Bastardo! Vieni qua! Ehi Round perdente, ero l'ultimo in vita! Ed eccoci subito con il secondo round Forse la mia squadra... Ma cosa fai? Vai a prenderti l'altro aereo La mia squadra magari non ha capito molto bene le regole Vince chi arriva a tre vittorie di seguito, chiaramente Cioè a tre vittorie Spero che la mia squadra abbia capito Che deve atterrare su quei cosi In mezzo qua dove c'è la maize bank O dove cavolo sono Dobbiamo prendere tutti quanti gli RPG Senza schiavellarsi Forse l'avranno capito O forse no Perché in teoria bisognerebbe paracadutarsi così Olè Aspettate, aspettate, aspettate Eccoci qua Perfetto, perfetto Dai togli qui sto cavolo di paracadute inutile Ottimo, 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 ottimo Prendiamo l'altro Ok Terzo round Speriamo che il tre è il numero perfetto Che sia la volta buona Che riusciamo a portarci a casa Un round Mi auguro Per aprire la porta laterale Andiamo avanti con la porta laterale noi O la possiamo chiudere La lasciamo aperta Che c'è frega Sarebbe figo riuscire a dare Da atterrare Perché la gente muore già così Olè Ok E i primi a esplodere Sono quegli altri Vai così Apri, apri, apri Perfetto Chi è questo? Il mio compagno di squadra Ok Ok Togliti sto paracadute inutile Perfetto Uh, uh Guardatelo là quello È morto? Penso di sì Dobbiamo andare qua sopra Uh, là c'è qualcuno È morto Quell'altro è morto Ce n'è ancora uno In vita, eh Fatemi andare qua dietro Bastardi Uh, eccolo lì Eccolo là Li stanno massacrando tutti Io vado qua in alto Dai avanti Dai avanti C'è solamente quello Su sto cavolo di aereo Almeno finalmente la mia squadra Ve l'ho detto ragazzi Al terzo round Ha capito un po' Come fare Ah, è lì l'aereo Vai Mi tuffo Olè Grandissimo il mio compagno di squadra Abbiamo abbattuto Finalmente Due a uno Round vincitore Come prima vi vorrei, eh ragazzi Come prima Belli agguerriti Che andava Perfetto Perfetto Ascolta Ma perché deve Entrare gli abusivi Devono entrare dentro il mio aereo Non ho capito Anche gli abusivi Devo avere Va bene Allora Noi andiamo così Spero che quando io mi lanci Dall'aereo Sei pronto? Adesso io mi lancio, eh 3, 2, 1 Io mi lancio Conviene lanciarti anche te Perfetto Di qua Atterriamo così Perfetto E adesso Apriamo Oh Che cavolo è Che si fa autoesplodere Stardi Occhio 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 Ah no Quello è il mio compagno De squadra Sono fuso Raga Sono fuso Ma ne ho visto uno La a piedi Ah è quello Distrutto Dai raga Occhio Occhio Che ne è un altro Eh Come cavolo sono tutti Sono tutti Ancora con gli aerei Dai Quello è morto Occhio Occhio raga Che c'è quello lì Distrutto Ci sono ancora 3 con gli aerei E siamo in 3 Soltanto Cioè in 2 Contro 3 Tanto fatemi prendere Ah ce l'avevo già Bene Ok Altri 2 colpi Ma si dai Con l'hug anche Ci si mette E muori Bastardo Devo ai morì Oh Alleluia Vuoi mettere La proagine Di mister Adesso che si è Riscaldato Perfetto Si è schiantato Da solo Mi va bene 2 a 2 Round Finale Quinto Ed ultimo Round Secondo voi Se io rimango Qua fermo Su questa piattaforma Ma vinco O perdo Scrivetemelo sotto Nei commenti Voglio vedere voi Cosa Ne dite Perché quello Non si muove La mia squadra È anche in inferiorità Numerica Giusto Per dire Per sottolineare Ma se tutti Si lanciano Là Io rimango Là con l'aereo Che cavolo è che mi riesce A venire a prendere Vince in pratica Chi Non so Ragazzi La superiorità Numerica Se siamo in due Là Quegli altri Sono solamente Da soli Vinciamo noi Chi lo sa Tanto apremo Sto paracadute Ah questo È il mio compagno Perfetto Oh Perfetto Allora Vediamo di prenderci Subito il paracadute Così non Mi smarmello Per terra Ok Quello è morto Vai Così vi voglio Belli Aggressive Ma da dove Cavolo Mi hanno Beccato Io stavo Guardando la Minimappa C'era quello Che avevo appena Sparato E ce n'era Un altro Che io Non ho visto Ragazzi Secoli Bam Con il razzo Ma si può Ma si può Forza ragazzi Siete due Contro Due Vedete Di vincere Siete la crew Di Bistard Non deludetemi Allora Vediamo che Ce n'è uno A piedi Che corre Laggiù Come Un fagiano Lo vedete La magari Vi zoomerò Negli effetti Speciali Del montaggio Vai Sulla destra Spara 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 Forse questo è buono Forse questo è buono Sì infatti Grandissimo Rimane Soltanto Quello Con l'aereo Che adesso Se lancia Se lo colpisce Al volo Con il lanciarazzi 100 punti Oh non l'hai ucciso Massacralo Avanti Ma che cavo Ma Abbiamo vinto Sì Ci siamo portati a casa A questo match Non ho capito nulla Della fine Però round vincitore Subito ragazzi 10-12 mila like Scrivetemi cosa ne pensate Di questo Last team standing In descrizione Come al solito Trovate Instagram Facebook Qua da Bistart Per oggi è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Vi Ciao Ciao Famino